Stai usando MySolarEdge per massimizzare il tuo risparmio di elettricità? Guarda questo video tutorial per essere sicuro di non perderti nulla. Con l'installazione di un contatore SolarEdge, MySolarEdge fornisce una dettagliata visione dei tuoi profili quotidiani di consumo energetico. Queste informazioni possono avere enormi implicazioni per il tuo risparmio in bolletta. Osserviamo il tipico utilizzo di energia di una famiglia con bambini piccoli. Come ci si può aspettare, il loro picco di consumo è al mattino, prima della scuola e del lavoro, e di nuovo alla sera, quando la famiglia rientra a casa. Per tutto il resto della giornata, quando non c'è nessuno in casa, il consumo della famiglia è basso. Confrontando questo profilo di consumo con il grafico del consumo giornaliero, è possibile identificare, e quindi indagare, su qualsiasi indicazione di utilizzo inaspettato che potrebbe limitare il risparmio di elettricità. Usa il livello del picco di consumo di ieri, o le visualizzazioni settimanali, mensili, per identificare consumi insolitamente alti. Se hai individuato qualcosa di insolito, questo potrebbe indicare che sistemi come la caldaia o per la pulizia della piscina stanno funzionando quando non dovrebbero. O che sono grandi consumatori di energia che dovrebbero essere sostituiti con modelli più recenti e più efficienti dal punto di vista energetico. Un altro modo semplice per massimizzare i risparmi e pagare meno il gestore della rete è quello di utilizzare MySolarEdge per spostare il tuo consumo e farlo coincidere con il picco di produzione solare. Questo significa far funzionare i sistemi ad alto consumo, come il caricabatterie per il veicolo elettrico o la caldaia, durante le ore centrali della giornata, quando possibile. Esci dalla visualizzazione con grafici divisi e unisci i grafici di produzione e consumo per visualizzare comodamente tutti i dati insieme. In questo grafico puoi vedere un alto consumo di energia al mattino e alla sera quando la produzione solare è bassa o nulla. Sii intelligente e pianifica questi consumi della tua giornata spostandoli quando possono essere alimentati dal sole, gratuitamente. Se possiedi una batteria, puoi estendere ulteriormente il tuo consumo di energia solare piuttosto che pagare il tuo gestore di rete per alimentare la tua casa. Ottieni una visione più approfondita utilizzando la vista con grafici divisi. Quando nel grafico di produzione vedi alti livelli di esportazione verso la rete, è una buona indicazione che in quei momenti della giornata hai abbastanza produzione solare in eccesso da poter aumentare il tuo consumo domestico. Usando i grafici del bilancio energetico di MySolarEdge, avrai un'altra indicazione su quanta elettricità stai effettivamente importando dalla rete. Il grafico del consumo analizza tutto questo per te in modo chiaro, mostrando quanto del tuo consumo di elettricità proviene direttamente dal sole, dalla batteria, dall'importazione della rete e qual è la tua percentuale di autoconsumo rispetto al consumo totale. Se hai collegato i dispositivi Smart Energy di SolarEdge, allora migliora ancora di più la tua efficienza energetica utilizzando le funzioni di programmazione Smart di MySolarEdge. Programma comodamente i dispositivi per farli funzionare quando la produzione solare è alta. Utilizza il sole per riscaldare l'acqua, alimentare la pompa della piscina o caricare l'auto elettrica durante il giorno, quando c'è molta energia solare in eccesso. Consuma l'elettricità della rete solo alla sera, se proprio necessario. MySolarEdge può anche consigliarti quando è il momento giusto per aumentare la tua capacità di accumulo in batteria o il numero di dispositivi Smart Energy. Utilizza il grafico della batteria per verificare se ha raggiunto la carica completa quando c'è ancora una significativa produzione solare disponibile nel resto della giornata o alti livelli di esportazione. Può significare che hai abbastanza potenziale di produzione per caricare più batterie. In particolare, questo avviene se la capacità della tua attuale batteria non è sufficiente a soddisfare tutte le tue esigenze energetiche notturne, per esempio. Se disponibili nella tua regione, aggiungi altri prodotti SolarEdge Smart Home, come un caricabatterie per veicoli elettrici, prese e interruttori smart, un regolatore per accumuli termici, per aumentare ulteriormente l'utilizzo dell'energia solare in casa e ridurre le tue bollette energetiche. Cerchi altri suggerimenti su MySolarEdge? Visita il nostro canale YouTube per altri videotutorial. Grazie. Grazie.